Allora in comune convocano i dipendenti e dobbiamo fare un test per valutare le vostre condizioni, se siete ancora in grado di fare bene il vostro lavoro, allora mettono tutti in fila, arriva il primo, allora lei mi deve contare da 1 a 10 che dobbiamo valutare le sue capacità cognitive, da 1 a 10, sì da 1 a 10, 2, 4, 6, 8, ma come fermo, abbiamo detto da 1 a 10, ma io faccio il postino, consegno la corrispondenza sul lato destro della strada e quindi io non ho bisogno di contare 1, 3, 5, il mio lavoro è 2, 4, 6, 8, 10, 12, va bene, va bene, va bene, allora lo confermiamo nell'incarico, avanti un altro, allora anche lei mi deve contare da 1 a 10, 1, 3, 5, 7, no, ma scusi ma fa il postino anche lei, sì io faccio il postino, anche io come il mio collega, io faccio però il lato sinistro, quindi io la mattina quando porto la corrispondenza, io so, faccio 1, 2, 3, 5, 7, ah va bene, va bene, allora può andare, avanti un altro, arriva un altro, che fa peccato anche lei il postino, ma come si permette, io ho fatto liceo classico, ho due lauree, sono laureato in giurisprudenza, poi ho preso la seconda laurea in scienze politiche, lavoro all'anagrafe, io sono una persona di tutto rispetto, ripeto, lavoro all'anagrafe, a volte lavoro anche al catasto, mi spostano a volte in base alle esigenze, va bene, comunque lei mi deve contare da 1 a 10, da 1 a 10, e che problema c'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fante, cavallo e re.